Ancora quest'anno ricorre il trofeo a Tonelli, pensate di coronarlo con una corsa anche quest'anno? Certamente, certamente. Domenica è vicinissima. Il ritrovo per tutti è domenica 23 ottobre alle ore 8 del mattino in piazza 20 settembre. Inizieremo alle 9 con i bambini e i ragazzi con medaglia ricordo e succo completamente gratis per tutti i partecipanti. Poi alle 9.30 finalmente spazio agli adulti con fermatissimo il percorso con partenza e arrivo in piazza 20 settembre. Faremo città, poi mare, lungomare Sassonni e di nuovo in città con il soggettivo passaggio sotto l'arco d'agosto. Ci sarà la possibilità di percorrere un giro, quindi 5 km oppure due giri per un totale di 10 km. Comunque alla fine ricco buffet per tutti i partecipanti. Ci saranno tanti camminatori che vengono non solo dalle Marche ma anche dall'Emilia Romagna, dalla Toscana per passare una bella giornata in allegria. Invitiamo chiaramente tutti a partecipare, le iscrizioni si possono fare al momento. Invitate anche i familiari, amici, bambini per passare una giornata in allegria nelle varie attività collaterali previste. Invitiamo anche a rimanere poi a pranzare in piazza nei vari locali aperti per l'occasione. Sicuramente domenica Lamberto farà un bel sorriso. Da farò correre, buone corse! Grazie!